Lo sportello del cittadino è a Taranto, San Vito, via Rombi 9, via Rombi è una traversa di via Bizzarro e ho al mio fianco il signor Paolo Mancarella il quale purtroppo ci ha invitato di nuovo, chiariamo, ci fa piacere incontrarlo anche perché vedete un giovanotto di soli 90 anni, grazie a Dio, grazie a Dio, sprizza salute, ma siamo già stati qui alcuni o circa un mesetto, due mesi fa, per sottolineare una situazione di degrado assoluto, vedete qui alle mie spalle c'è tutta una distesa di vegetazione spontanea, di erbaccia, di alberi che crescono rigogliosamente e che ovviamente creano una situazione di pericolo a causa di possibili incendi, anzi di incendi che già ci sono stati e poi c'è anche una questione proprio di ratti, stagione siamo stati ostaggio di ratti, di insetti, del sindaco che non è intervenuto. Quindi c'è una situazione di igiene pubblica. Ora io ho detto quest'area, andiamo per ordine, quest'area probabilmente è demaniale, ma in ogni caso il signor Mancarella cosa ha fatto a seguito della nostra intervista? Ha mandato una raccomandata al sindaco di Taranto, al comandante dei vigili, al prefetto e ha detto io mi trovo in questa situazione, c'è questa situazione che è davvero pericolosa. Per cortesia volete intervenire? Il signor Mancarella ha telefonato ai vigili urbani. I vigili urbani non rispondono. Poi si è rivolto alla forestale, non risponde. La forestale ha detto che non era colpito loro, era dargli notizie ai vigili urbani. Carabinieri, vigili urbani dovete chiamare, la finanza, i vigili urbani. Poi ha scritto al prefetto e non ha avuto risposta. Niente. Ha scritto al sindaco, all'amministrazione e non ha avuto risposta. Tre raccomandate, ho speso 16 euro e due centesimi, ve le tre raccomandate. Voglio dire, dinanzi a... Niente, nemmeno la risposta, niente. In pratica quando lei chiama anche i vigili del fuoco dicono c'è un incendio o no e allora si rivolga i vigili urbani. Esatto. Bisogna capire bene, ecco a questo punto io vi permetto di dire, capire bene la competenza perché sicuramente è del demanio, però in ogni caso l'amministrazione, i vari soggetti preposti dai vigili urbani alla forestale ai vigili del fuoco non possono come dire fare lo scaricabarile. Esatto. Qua siamo senza protezione, come se non avessimo... Come se non fossimo governati. Esatto. C'è un'anarchia generale. Vedete, il nostro operatore ce li mostra, guardate qui cosa si crea, guardate, proprio una vegetazione spontanea, commentiamolo insieme. Guardate lì che addirittura è distesa, che se da un lato è bello vedere il verde, però il verde deve essere curato. Esatto. Dispongono dell'isola verde, gli operai dell'isola verde, li possono utilizzare, i coloro che prendono il reddito di cittadinanza. Si è diventato il reddito di parassitismo e io dico si potrebbe far sollevare il sederino dalla sedia e guadagnare, no? Esatto. Purtroppo è così. È davvero increscioso vedere una persona che ha una certa età, che si sta rivolgendo in maniera civile, garbata, nella massima legalità, che manda delle raccomandate e che chiede un intervento delle istituzioni e si trova... Le istituzioni non rispondono, non rispondono. Il chiamico è il telefono, il telefono squilla, ma non ti rispondono. Cosa fare? Scrivono e raccomandate a spese mie e nessuna risposta. Non ti rispondono. A questo punto proverò magari a contattarli direttamente perché lo scaricabarile non va bene. Oltretutto poi cosa dobbiamo aspettare? Che accada la disgrazia? Non so, la situazione è questa. Io non so a che adesso e a che vi forse... Li abbiamo interpellati tutti. Solo alla Procura della Repubblica non abbiamo... Esattamente, forse questa è l'unica via. L'unica via. Però omissioni a questo... Esatto. Bene, ci fa... La strada è stretta. Poi c'è l'altro problema che... Questo è un problema... Bisogna rivolgersi ai vigili. Le macchine parcheggiano in maniera certamente non civile. Praticamente la strada viene bloccata e in caso di arrivo di ambulanza, come è capitato, diventa un problema. È inaccessibile la strada. Si muore. Qua, e voi, per la situazione della strada, è stato costruito questo plesso tutto qua, abusivamente, che poi c'è stato... Il condono. Il condono. Le strade strette. Le macchine vengono messe fuori, non nei propri gracci. È chiaro? Beh, allora, a questo punto io prendo questo impegno, signor Paolo, parlerò direttamente con l'amministrazione e chiederò, se non direttamente l'amministrazione, perché probabilmente non è competenza dell'amministrazione essendo un'area demaniale, però l'amministrazione deve comunque interfacciarsi con i soggetti responsabili preposti... Si può avvalere nei confronti di... Si fa l'ordinanza in danno, cioè si provvede ai lavori, all'intervento e poi ci si rivale economicamente sui proprietari. Esatto, è così. Si, e direi un'altra situazione, che il sindaco invitato di venire qui attraverso quella situazione per vedere che cosa... Ma io dico, non pretendiamo ovviamente che il sindaco venga, ma almeno che qualcuno intervenisse tutto qui. Esatto. Va bene, allora, ora facciamo così. Io ho raccolto questa seconda intervista. Eventualmente, eventualmente. Si rivolgerà alla procura della... Esatto, gli do in mano all'avvocato. Ma noi vogliamo risolvere questa situazione, contatterò l'amministrazione per capire effettivamente di chi è la competenza e in ogni caso è ovvio che tra le istituzioni deve esistere un dialogo, per cui se la competenza è del soggetto X, l'amministrazione chiama il soggetto X e dice soggetto X vuoi intervenire o viceversa se fosse responsabile per ipotesi, dico per dire l'amministrazione. Ma lasciare il cittadino in balia di se stesso lo scarica barile da un soggetto istituzionale all'alto è un peccato. Io vi ringrazio del fastidio che vi ho dato. È un piacere sempre vederla. Ci auguriamo di vederci altre mille volte, magari per far vedere delle immagini di una zona bonificata. Grazie, grazie. Questo è anche turismo, eh? Così si promuove il turismo, il territorio, certo. Va bene, grazie, grazie di nuovo. Grazie a tutti.